a meno di un mese dall'inizio di pomeriggio 5 emergono nuovi dettagli ecco perché la trasmissione non cambierà nome manca sempre meno alla messa in onda della prima puntata di pomeriggio 5 e continuano ad emergere nuovi dettagli di quella che si prospetta essere un'edizione molto diversa da quelle alle quali siano stati abituati in passato per l'occasione la nuova conduttrice mirta merlino ha rilasciato un'intervista a tv sorrisi e canzoni nella quale ha svelato nuovi particolari e retroscene inediti primo tra tutti il motivo che ha portato la produzione a mantenere il nome del programma così com'era lunedì 4 settembre partirà la nuova avventura di mirta merlino a mediaset come ormai tutti sapranno la celebre giornalista sostituirà barbara d'urso al timone di pomeriggio 5 il rinnovamento editoriale voluto da pier silvio berlusconi ha infatti escluso del tutto la d'urso dalla programmazione della prossima stagione televisiva sulla rete del biscione nell'intervista rilasciata a tv sorrisi e canzoni mirta merlino ha parlato di molte cose ma il dettaglio più interessante svelato dalla giornalista è stato il motivo per il quale il programma si chiamerà ancora pomeriggio 5 in tanti avevano infatti pensato che la produzione decidesse di variare titolo alla trasmissione per sottolineare ancora di più il cambio di rotta e la rottura definitiva con il passato ma così non è stato è un brand consolidato sarebbe stato un errore modificarlo la grande sfida sarà fare un cambiamento nella continuità far sentire al pubblico che quella è sempre casa sua ma con un altro profumo ha dichiarato in proposito la giornalista